Io ho iniziato a disegnare la storia di Pinocchio che avevo sei anni, quindi è un racconto che mi accompagna da allora, però come regista per me era difficile resistere alla tentazione di fare Pinocchio e poi come avete visto ho avuto la fortuna di avere compagni di viaggio accanto a me straordinari, da Roberto, Federico, Luigi, Massimo, Rocco, tutti gli attori mi hanno aiutato a dar vita a questi personaggi, mi hanno anche aiutato a fare un film che sia anche che abbia una sua leggerezza, una sua ironia, comicità. Sicuramente ho iniziato con il racconto a esplorare un territorio dove si mescolava il reale e il soprannaturale, quindi sono entrato in un mondo magico, però questo film credo sia una storia a sé, è un film di cui sono felice perché riconosco ogni fotogramma di questo film e mi appartiene, però al tempo stesso abbiamo cercato di fare un film che potesse arrivare a tutti, un film popolare, così come il grande capolavoro di Collodi, nasce come un testo popolare che si rivolge a tutti indistintamente dalle classi sociali, dall'età e questo è stato il grande sforzo che abbiamo fatto, cercare di fare un film che potesse far riscoprire il grande classico che è così vivo nell'immaginario di tutti, ma la nostra sfida era proprio quella di fare un film che potesse sorprendere e incantare di nuovo il pubblico vedendo questa storia. Io sono partito proprio dalle origini, come dicevo prima, quindi per me se devo immaginare da un punto di vista figurativo chi è stato fondamentale partirei da Mazzanti, Enrico Mazzanti che è stato il primo illustratore di Pinocchio e che ha disegnato a contatto con Collodi, che già avevano lavorato insieme su altre opere di Collodi, quei disegni lì per me sono stati il punto di partenza, poi chiaramente sono stato influenzato dalla pittura dei Macchiaioli che comunque è da quella semplicità cromatica e poi sicuramente il Pinocchio di Comencini per certi versi mi ha ispirato per certe atmosfere, per quel senso di povertà e poi sicuramente Barton è uno dei registi che comunque conosco bene, che ammiro e quindi può darsi che ci sia anche qualcosa di Barton, ma non in maniera premeditata, se devo pensare al mio percorso penso sia legato soprattutto a Mazzanti.